Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale, iniziamo la nostra consueta rassegna sportiva con il calcio, in Champions League il Napoli ha pareggiato 1-1 contro le Barcellona, al gol iniziale di Lewandowski ha risposto quello di Olzimène, 1-0 invece del Porto contro l'Arsenal che ha realizzato il gol vittore negli ultimi minuti della partita. In Serie A quest'oggi ci sarà la sfida tra Lazio e Torino in recupero della giornata che non è stata giocata da parte dei Bianco Celesti a causa dell'impegno in Supercoppa. In campo in ambito europeo invece Roma Firenord e Ren Milan per quanto riguarda l'Europa League con il kick-off delle ore 19 per quanto riguarda Ren e Milan e 21 tra Roma e Firenord. Per quanto riguarda invece la giornata di Serie A, Daniele Orsato arbitrerà il big match di questa giornata tra Milan e Atalanta. L'Inter in questo momento leader del campionato di Serie A andrà a Lecce e avrà come fischietto doveri per quanto riguarda Fiorentina-Lazio l'arbitro scelto e guida. Mentre a Sacchi è stata affidata Roma-Torino, Juventus-Frosinone a Raffuano mentre le Napoli campioni d'Italia contro il Cagliari avrà Pairetto come arbitro. Kwame è stato ricoverato a Firenze a causa della malaria. Il giocatore di rientro dalla Coppa d'Africa è risultato positivo dopo aver giocato in Coppa d'Africa con la sua nazionale. Il Bayarmonico, quindi passiamo in ambito europeo, e l'allenatore Thomas Tuchel hanno deciso congiuntamente di terminare con un anno d'anticipo il proprio rapporto lavorativo originariamente previsto il 30 giugno 2025. Secondo la Build, il prossimo allenatore del Bayarmonico è José Mourinho. L'agente di Jurgen Klopp ribadisce che per un anno non allenerà. Infatti sono state smentite tutte le voci che riguardavano il tecnico tedesco attuale allenatore del Liverpool sulla panchina del Bayarmonico. Passiamo al tennis. Per quanto riguarda i risultati dell'ATP di Rotterdam, Michelsen ha battuto Demiurale 6-4-6-1, Zizzi Prassi invece ha sconfitto Vukic 6-3-6-0, Rudd ha battuto Girón 6-1-6-0, Zwerve invece Niscioga 6-3-6-0. Per quanto riguarda il VTA 1000 di Dubai, oggi nei quarti la Paulina affronterà la Ribachina. Rio de Janeiro invece, Francisco Cherundolo ha battuto 6-2-6-1, Albert Ramos Vinalas. Per quanto riguarda il medesimo torneo brasiliano, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno sconfitto Marcel Gralieros e Horacio Zebelas per 6-4-3-6-17. Questa coppia è stata sconfitta nell'ultimo torneo, dove hanno vinto ovviamente i nostri italiani. Passiamo all'ATP di Doha con i risultati, uno risultato soprattutto clamoroso. Meschi che ha sconfitto Murai per 7-6-6-7-7-6. Rublev invece ha sconfitto Gasquet 6-3-6-4, mentre nelle VTA di Dubai la Ribachina che affronterà la nostra azzurra Paolini ha sconfitto la French con il punteggio di 7-6-3-6-6-4. In Gashviatec invece ha sconfitto 6-1-6-4 Elina Svitolina. La Zeng invece ha sconfitto la Patapofa 6-3-6-2 e Cocogufa ha sconfitto Karolina Priskova con il punteggio di 2-6-6-4-6-3. Anna Krishania invece ha sconfitto Elena Ostapengo 6-4-7-5. Passiamo alla Formula 1, dopo la giornata di ieri che ha visto Max Verstappen dominare sia nel day 1 per quanto riguarda la mattina e sia il day 1 per quanto riguarda il pomeriggio, questa mattina la Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso la mattinata del day 2 con 1-31-750 davanti a Oscar Piast della McLaren e local sergeant per quanto riguarda la Williams. La sessione è stata fermata però a causa della rottura della copertura di un tombino che inizialmente è stato sollevato da Hamilton e poi è stato centrato da Charles Leclerc. Questo nel pomeriggio, ci saranno decisioni della FIA, la sessione dei due pomeriggiani è stata incrementata di due ore con gli orari che saranno estesi fino alle ore 19. Passiamo al ciclismo, Ben O'Connor ha vinto la terza tappa della UAE Tour. Il ciclista della Jeu de Seule Mondiale ha battuto Jay Vinn della UAE Team Emirates e Van Envelet della Lotto Dynasty. Il nuovo leader della giornata della classifica araba è ovviamente Jay Vinn davanti a Ben O'Connor di ben 11 secondi da registrare invece il ritiro di Adam Yates a causa di una caduta nei chilometri finali. Il britannico era uno dei favoriti per l'acquisizione della maglia generale della classifica delle UAE Tour. Passiamo al basket. Carlo Recalcati non farà più parte dello staff tecnico della nazionale italiana e quest'oggi la nazionale italiana affronterà la Turchia e i convocati dal CT Pozzecco sono Marco Spissu, Nicolo Magnon, Stefano Tont, Nicolo Melli, Diego Flaccadori, Amedesto Tessinari, Giampaolo Ricci, Achille Palonara, Luca Severini, Gabriella Prosida, Alessandro Paiola e John Petrucelli. Rimanendo sempre nell'ambito del basket, il premio come miglior giocatore porterà il nome di Dino Beneghin. Per quanto riguarda invece quello di allenatore avrà il nome di Sandro Gamba, mentre per quanto riguarda il capocannoniere quello di Antonello Riva. Passiamo all'NBA. Danilo Gallinari ha ufficialmente dichiarato di essere un nuovo giocatore di Milwaukee. Per quanto riguarda invece il volley in campo, ieri in Champions League l'Ancana è stata sconfitta dalla Lube Civitanova 1-3. Lecq Basisiassi contro Scandici ha vinto la squadra polacca per 3-2. Le BR volley sono state schiantate da Trento per 3-0. Piacenza invece ha vinto 3-2 contro Jastra Berdwischi. Nella Challenger Cup invece Monza è stata sconfitta da Varsavia per 3-1. Per quanto riguarda la volley femminile nella Chef Cup, Chieri contro Parigi 3-2, mentre nella Challenge Cup Novara ha schiantato Nantes per 3-0. Quest'oggi, per quanto riguarda il Beach Soccer, per quanto riguarda i mondiali quarti di finale vedrà l'Italia contro Tahiti. Passiamo al nuoto. Matteo Rivolta ha detto basta e si ritira dal nuoto agonistico dopo 32 anni con un annuncio sui social. Il 32enne ha dichiarato che le sventure che ho vissuto quest'anno non sono mera fatalità ma sintomi di un disagio interno. Mi guardo indietro e con orgoglio vedo una ragazza esigente, critico, da sempre il più grande avversario di se stesso, ma col sorriso di chi sogna ad occhi aperti. Grazie a tutti voi per avermi aiutato a diventare un uomo orgogliosamente come sono oggi. Passiamo all'atletica. Zai Andorzo, Larissa e Iacchipino saranno alla Listaf Indore di Berlino. Tappa del World Indore Tour che si svolgerà domani. Per quanto riguarda invece il Meeting di Madrid, ultima tappa del World Indore Tour livello gold ci sono gli italiani. Leonardo Fabri, Zaneveir, Lorenzo Simonelli, Kataline Tecutenanu, Eloisa Coiro, Elena Bello, Giulia Aprile, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli. Roberta Bruni invece ed Elisa Molinarolo saranno all'All Star Perch. Evento organizzato a Clermont-Ferrand da Renault-de-la-Ville. Ovviamente il torneo sarà in Francia. Passiamo agli sport invernali con il B.O.B. Dalle ore 14 ci sarà la gara skeleton maschile. Per quanto riguarda invece lo Schi, Giovanni Franzoni ancora una volta secondo nelle Super G della Coppa Europa sulle nevi di Sella Nevada in provincia di Udine. L'Ariot è stato il migliore in questa sessione mentre il terzo posto è stato preso da Adrien Frasco. Per quanto riguarda invece la vela, a causa del vento troppo leggero, gli europei di Ilca per quanto riguarda entrambe le sessioni 6 al 7 sono state annullate, quindi cancellando definitivamente la quarta giornata. E finiamo questa edizione del nostro telegiornale con il tirogo largo. Sono ben cinque gli azzurri che hanno raggiunto i quarti di finale nel torneo olimpico, ovvero Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Chiara Rebagliati, Tatiana Andreoli e Lucia Boario. Purtroppo eliminato Matteo Borsanini sconfitto agli ottavi da Adam Gradinaschio. Per quanto riguarda la divisione compound, Michea Gondo, Marcela Tognolo, Andrea Nicole Mocia ed Elisa Roneri sono andati avanti. Nell'Argonudi invece Simone Barbieri, Giuseppe Semialdi, Walter Balestri per quanto riguarda gli uomini, mentre per quanto riguarda le donne hanno passato il turno, Cinzia, Noziglia, Fabia, Rovatti. Dalle ore 14.30 alle ore 18 ci sono i quarti di finale e semifinale delle prove a squadra. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, un caro saluto.